Musica Quest'oggi siamo a Livina e Longo, siamo venuti a trovare nel suo ufficio il sindaco Leandro Gromes, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Inizierei parlando di un'opportunità che però va sempre colta molto rapidamente, che è quella dei finanziamenti del PNRR. Che cosa avete candidato, su cosa vi siete orientati, cosa siete riusciti magari già a portare a casa? Beh, noi abbiamo un progetto importante che è stato finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione. Si tratta di un asilo nido, un progetto che quagliava 2 milioni e mezzo di euro. E avrà, penso, anche una valenza sovracomunale. Sì, una valenza sovracomunale. Abbiamo infatti fatto una convenzione con il Comune di Roca Pietro e il Comune di Colle Santa Lucia, proprio per dare forza a questo progetto. Sono fondi importanti, ma progetti difficili da attuare, proprio per le entornistiche che sono date dal PNRR stesso e da tutte le attività burocratiche collegate a questi progetti. Però, insomma, dai, ce la faremo. Ma quindi è un progetto che avevate già più o meno in mente, più o meno pronto, perché altrimenti si fa fatica. Sì, no, noi avevamo una scheda progettuale molto importante, poi ci è stato un po' tagliato dal Ministero, però, insomma, con 2 milioni e mezzo riusciamo comunque a realizzare una struttura d'eccellenza che soddisfi poi tutti i requisiti, ma anche che sia sostenibile in termini ambientali ed efficientamento energetico. Poi diventa anche un servizio per la gente perché poi rimanga sul territorio. Ma assolutamente sì, avere la garanzia di un servizio nido è importantissimo per noi, anche per tutte le mamme e i papà che vanno a lavorare ad Arabia in stagione o in estate poi su tutto il territorio. E come uno potrebbe dire, è un investimento in controtendenza, un investimento come per dire che resiste, forse è una tendenza? Ma no, qui devo dire che il Comune di Rinalongo ha sempre investito tantissimo sulla scuola, in termini di aiuto alle famiglie, in termini di servizi, in termini di collaborazione con il Ministero per l'offerta formativa. Noi abbiamo attualmente tre plessi, l'asilo, le scuole elementari che sono state ristrutturate, anche se da poco, in modo molto molto importante, tant'è che sono state prese esempio dal Ministero dell'Istituzione come esempio di ristrutturazione di una scuola di montagna. E poi abbiamo le medie, abbiamo circa 110 ragazzi, ovviamente siamo un po' come tutti i comuni in calo demografico, però adesso questo quarto plesso credo vada ad aumentare di molto i servizi, che possa servire un po' da freno per il calo demografico, per la fuga insomma dalla montagna, perché in montagna è difficile vivere e c'è poco da fare, costa di più e se non riusciamo a sostenere in maniera importante le famiglie sarà insomma una situazione irreversibile. C'è anche il lato opposto della composizione demografica, che è quello dei più anziani. Anche loro hanno bisogno chiaramente di servizi, hanno sempre più bisogno di servizi, tra questi c'è quello della casa di riposo. Beh ovviamente insomma qui la forza lavoro sta calando, perché insomma sta calando, abbiamo tantissime persone che vengono a lavorare da fuori, abbiamo una casa di riposo, quindi anche su questo il comune è molto impegnato, una casa di riposo che è la Villa San Giuseppe, abbiamo 40 posti per un'auto sufficienti e 18 posti per auto sufficienti, è gestita dalla Fodom Servizi, il presidente è Oscar Troi, abbiamo fatto investimenti importanti nel passato per l'ampliamento. Adesso abbiamo 2 milioni e mezzo di euro dai fondi comuni di confine, stiamo facendo le valutazioni sulla staticità dell'edificio sulla parte vecchia che è propedeutica tutto il resto dell'intervento, spero non cubi tanti soldi in maniera tale che rimanga un gruzzoletto sufficiente per fare il terzo piano, fare una terrazza piana sopra per dare un servizio ulteriore agli anziani, quindi fare un giardino e fare anche una caldaia a cipato in aggiunta a quella a gasolio, non si sa mai. Ecco diciamo che è un periodo, è una fase storica un po' complessa per fare lavori perché c'è il costo dei materiali che è aumentato, alle volte c'è anche l'indisponibilità delle imprese. Sì, però ci siamo abituati alle difficoltà in Italia, insomma se non succede qualcosa, se non cambiano qualcosa, se non complicano qualcosa, c'è qualcosa che non funziona, insomma quindi ci siamo abituati anche ai maggiori costi che sono derivati dall'aumento delle materie prime, abbiamo fatto fronte con fondi di bilancio, il Comune di Rinalogo fortunatamente ha un bilancio solido, insomma ha anche risorse finanziarie, però certo non è facile perché qualsiasi variazione, qualsiasi attività comporta un carico burocratico che è enorme, per questo insomma voglio ringraziare i miei uffici che si stanno veramente prodigando per portare avanti tutte queste iniziative che riperto sono importantissime, insomma un progetto da oltre un milione e un impegno in termini burocratici che è incredibile. Per quanto riguarda la casa di riposo si notano delle difficoltà magari nel reperimento di personale? Beh sì, un po' come su tutte le altre attività, abbiamo in tal senso acquistato un edificio proprio da affidare all'azienda speciale per poter garantire un alloggio ad un prezzo convenzionato per i lavoratori che si fermano magari qui sei mesi, un anno, un anno e mezzo, che altrimenti non potrebbero ovviamente venire a lavorare all'umino a lungo proprio per il caro prezzi che c'è sugli appartamenti. Ad Arabba è impensabile trovare un appartamento, se si trova sono prezzi esorbitanti molto più alti di quelli di uno stipendio, quindi la scelta dell'amministrazione anche in questo senso è stata quella di fronteggiare una tendenza per tempo. In altri comuni abbiamo affrontato lo stesso discorso, anche gli alloggi per i personali delle case di riposo eccetera. Un discorso che era venuto fuori è che a volte ci sono molte case libere non affittate neanche per locazioni turistiche eccetera però poi i proprietari faticano un po' a aprire le porte per quelle. Qui magari si sfrutta di più la locazione turistica oppure si nota anche questo problema? No, qui si sfrutta molto di più la locazione turistica, ci sono degli alloggi che sono sfitti vuoi per questioni familiari, vuoi perché l'alloggio non ha tutte le caratteristiche poi per essere dato in gestione magari delle parti in comuni, ci sono delle difficoltà però non è un problema che investe questa comunità, il problema qui è proprio trovare un alloggio da destinare ai lavoratori. Qui come dicevo prima abbiamo veramente oltre il 60% dei lavoratori che vengono da fuori comune. E per quanto riguarda invece i cantieri in previsione per quanto riguarda il comune di Divina Longo o quelli che avete realizzato di recente? Adesso abbiamo un altro progetto importante che è un progetto che a dire la vero era nato ancora quattro anni fa con la precedente programmazione dell'Odi con una scheda che era un po' troppo complicata, adesso l'abbiamo resa un po' più semplice non c'è più il PROI e non c'è più il cofinanziamento e quindi partiremo a brevissimo per realizzare questa struttura d'arabba che sarà anche di supporto all'area camper che è lì vicino, stiamo parlando di 5 milioni e 200 mila euro, quindi anche questo progetto è gestito dagli uffici comunali. E per quanto riguarda invece la dotazione di parcheggi del paese? Ad Arabba abbiamo parcheggi a sufficienza, a Pieve ne abbiamo realizzato uno che è costato un botto rispetto alle previsioni, vuoi per aumenti dei prezzi, vuoi anche per delle modifiche che sono state poi apportate in corso d'Europa, stiamo parlando del parcheggio di Val dell'Hotel, due piani, oltre 2 milioni di euro il costo che sta per essere ultimato da parte della ditta che ha avuto l'appalto. Bel progetto perché a Livina Longo, a Pieve abbiamo veramente una carenza di parcheggio, abbiamo la piazza nuova, abbiamo la piazzetta qui di sotto che è stata anche questa da poco rimessa a nuovo e spero che quest'anno riusciremo ad inaugurare questa importante struttura che poi è a servizio del medico, a servizio del museo, a servizio della farmacia, di tutte le associazioni che hanno sede all'Hotel Dolomite, alla Casa della Cultura Fodoma. Parlando di parcheggi si parla anche di organizzazione della mobilità, Livina Longo fa parte di quei territori che sono entrati in un ragionamento che guarda al futuro, sulla mobilità dei passi. Adesso stiamo tendendo l'ok da parte del Ministero per questo importante progetto, che abbiamo condiviso con i quattro comuni attorno al Sella, con la Regione Veneto, provincia di Belluno, provincia di Trento, provincia autonoma di Bolzano. C'è un po' il ramarico che non era, a dire la verità, all'interno della progettualità del mancato finanziamento della Galleria di Pieve. Stiamo parlando di un intervento che è molto inferiore ai 20 milioni di euro, una galleria di 380 metri, però che avrebbe dato veramente una svolta nuova a questa località che, come si vede, è strettissima e posta su un pendio riperissimo. Però insomma, ora siamo in buona categoria, insomma, in buona classifica, in una buona posizione e spero che, insomma, se qualche soldino avanza a Roma, insomma, la inseriscano nel piano e possa essere veramente realizzata. La stiamo aspettando da oltre 45 anni. Diciamo che sicuramente vi interessa più quella del carosello sciistico. Ma assolutamente sì. Abbiamo molto più bisogno della Galleria di ulteriori impianti. E proprio andando sul discorso del carosello sciistico, mi ricordo che una delle ragioni per cui magari eravate un po' critici era proprio anche la tutela storica dei luoghi, no? Cioè qui c'è una grande attenzione alla memoria storica. Ma assolutamente sì, ma anche l'ambiente. Anche l'ambiente è all'opportunità di realizzare ulteriori collegamenti sciistici che al di là della parola sostenibilità che è abusata. Ormai per fare qualsiasi porcheria viene usata la parola sostenibilità. Insomma, bisogna un po' pesarla bene questa forma. È chiaro, gli impianti vanno elettrico, quindi sono puliti, però per realizzare impianti servono lupe, strade, rifugi, piloni, stazioni, innevamenti, laghi e quant'altro. Insomma, noi siamo il secondo comprensorio sciistico per importanza, il primo per numeri del Veneto. Raba Marmonada, Torno Alsella, insomma, abbiamo il top dell'offerta sciistica. Bisogna dire che il Dolomiti Super Ski ha due chicchi, ha due eccellenze. Una è la Marmonada. Cioè, chi va in Marmonada, la pianifica, guarda il tempo, parte presto alla mattina e fa la Marmonada. Poi, se avanza il tempo, fa qualcun altro. Stessa cosa vale per il Lagazzuoi. Taxi per arrivare su alla partenza del Falzarigo. Fulivia, una pista bellissima. Poi c'è il rifugio sulla pista dove ci sono gli Alpaca. Un selfie con gli Alpaca. Poi giù, Cappanna Nera. E poi ci sono i cavalli che ti portano a San Cassiano per poi proseguire. Non vedo perché si dovrebbe andare a togliere queste due chicche che stanno facendo e stanno continuando a promuovere questo fantastico compensorio che abbiamo, che è uno dei migliori al mondo. Non abbiamo neanche bisogno di posti di lavoro. Come dicevo prima, abbiamo praticamente due terzi dei lavoratori che vengono da fuori comune, quindi non è anche questo motivo per poter fare. C'è una soluzione che io ho prospettato agli enti superiori, che sarebbe partire dal Falzarigo, fare una sorta di ferrovia interrata fino al Passo Valparola e da lì un impianto con pista che colleghi il Valparola a San Cassiano. Quasi tutto anche questo sul territorio del Comune di Vinalocco. La stagione come sta andando? La stagione è bene. Siamo sui numeri della stagione 19-20, quella che poi è stata chiusa l'8 marzo per Covid, quindi se non vengono delle nevicate importanti o delle giornate molto ventose, credo che saremo di nuovo su numeri record. Un'ultima domanda riguardo poi anche il futuro del turismo. Si parla molto di cambiamenti climatici, della possibile concorrenza tra lo sci e i fabbisogni idrici dei territori. Vi spaventa questo possibile tema? No, secondo me questo non è un problema. Cioè il quantitativo d'acqua che serve per fare una pista è irrisorio rispetto ad altri usi che possono essere fatti nel restante territorio italiano. Certo è che noi abbiamo la necessità d'acqua in quei due o tre giorni, molto importante, in quei due o tre giorni che fa freddo per fare le piste, ma complessivamente questo non è un problema. Sarebbe bello invece che venisse cambiata la normativa che equipara i laghi artificiali alle dighe, con tutto quello che ne va intorno. Noi vediamo che in altri paesi europei sfruttano i bacini artificiali di accumulo acqua per l'innevamento anche in estate per dare un'ulteriore offerta turistica. Questo sarebbe bene venisse fatto anche da noi. Con questa normativa non ci riusciamo. Grazie mille. Bene, grazie, buona giornata. E quindi ci vediamo alla prossima tappa. Grazie a tutti.